Ciao tifoso bianconero benvenuti nel canale Juventus Oggi. Iscrivetevi al canale, ne lasciate un like al video. Per non perderti nessuna novità dalla Juventus. La Coppa del Mondo sta per iniziare, e quando la Coppa inizia tutte le partite sono paralizzate e questo aiuterà la Juve a concentrarsi sulle opportunità di mercato. E secondo calciomercato uno dei nomi che la Juventus sogna è Mikhailo Mudrik. Mudrik sta guadagnando sempre più spazio nei piani della Juventus, il giocatore ucraino è un fenomeno. Per la tua età che è giusta solo 21 anni. E alla Juventus piacerebbe sicuramente avere Mudrik nella sua squadra. Tuttavia il grande ostacolo sarebbe Shakhtar Danetsk. Che vendono solo il giocatore per 35 milioni di euro. E tu tifoso della Juventus, 35 milioni di euro per Mudrik. Ne vale la pena? O no lascia il tuo commento.